Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air. Oggi destinazione Barney, una località secondo me strategica per vedere la diramazione del lago di Como in quello di Lecco. Da quella posizione dovremmo riuscire a vedere la diramazione, cioè vedere il lago che si divide, quindi a questo punto non perdiamo altro tempo e destinazione Barney. Barney. Barney 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 Grazie.